Sentiamo la Lucia Zolina che come esponente del Movimento 5 Stelle, perché anche il Movimento 5 Stelle ha espresso delle perplessità rispetto all'estensione del Super Green Pass, dopo la questione delle mascherine la teniamo tra un po' che è una giusta battaglia, ma sulla questione dell'estensione del Super Green Pass perché avete queste perplessità? Il Movimento 5 Stelle sinora è stato assolutamente concorde con tutte le misure che sono state prese dal Super Green Pass senza indecisioni. Io credo che voglia procedere per gradualità e soprattutto credo che il Ministro Patonelli abbia chiesto in quanto capodelegazione che prima di arrivare al Super Green Pass, per esempio per i dipendenti pubblici, si inizia a tornare smart working per tanti di loro, perché non si capisce per quale motivo strano a settembre si è pensato che tutto fosse finito, che milioni di persone potessero tornare tutti in presenza, forse il nome del PIL per carità, forse ci sta anche, non lo so, però oggi per esempio quella è una misura che potrebbe essere presa in considerazione, in serie considerazione.